Pakistan, Cina, Filippine, India, Yemen, Tailandia, Vietnam, Georgia, Tajikistan, Myanmar, Siria, Turkmenistan, Qatar, Nepal, Arabia Saudita, Iraq, Kazakistan, Timor-Est, Uzbekistan, Iran, Afghanistan, Kuwait, Oman, Emirati Arabi Uniti. Nella nostra amata Asia ci sono 51 stati, è una regione geografica molto vasta, piena di luoghi incantati. Nella nostra amata Asia è uno dei sette continenti, è davvero tanto bella, noi cantiamo felici e contenti. Mongolia, Taiwan, Bangladesh, Giappone, Malessia, Azerbaijan, Maldive, Palestina, Indonesia, Tibet, Sri Lanka, Giordania, Libano, Bhutan, Corea del Nord, Cambogia, Brunei, Corea del Sud, Singapore, Armenia, Kyrgyzstan, Israele, Bahrain, Laos. Con un piede in Europa e l'altro piede in Asia, Cipro, Turchia e Russia. Nella nostra amata Asia ci sono 51 stati, è una regione geografica molto vasta, piena di luoghi incantati. La nostra amata Asia è uno dei sette continenti, è davvero tanto bella, noi cantiamo felici e contenti. Grazie. Grazie.